ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi siamo su moons of madness le lune della follia un gioco ambientato su marte dove noi siamo uno dei tecnici diciamo di livello più basso che sta aspettando la nuova squadra per poi andarsene e insomma che cosa è successo su marte è stato trovato un segnale di origine alieno in forma di vita intelligente e quindi è stata creata diciamo questa base segreta dove studiare questo segnale noi siamo uno dei tecnici per la prima volta cioè almeno non l'ho fatto molto spesso vi chiedo già dall'inizio di farmi sapere poi se questo gameplay vi interessa se volete continuare perché questo potrebbe essere uno dei giochi per cui potremmo fare qualche altro episodio ovviamente non sono molto favorevole a il completare e di spoglierarvi l'intera storia in gameplay però se volete vedere altro ecco iniziamo la partita la cosa bella che unisce l'esplorazione spaziale insomma gioco dove dobbiamo risolvere dei problemi a lovecraft quindi tutti quei mostri strani un po' all'alien un po' un po' più diciamo vittoriani insomma e niente speriamo che il gameplay vi piaccia che il gioco vi piaccia e che magari vogliate vedere altri episodi anche perché la community sta crescendo e me ne accorgo anche dal numero degli insulti che mi stanno arrivando quindi si va avanti sempre compatti allora vi siete mai trovati nella situazione in cui in cui scusate un secondo vado a vedere se sono attivi allora lingua in italiano perfetto si volevo solo controllare una cosa perché mi è venuto il dubbio che si siano disattivati i sottotitoli infatti allora vi siete mai trovati in quella situazione in cui magari vi trovate un po' nella cacca nel senso che rimanete piedi in auto forate una gomma magari avete un piccolo incidente in auto insomma quelle cose in cui voi mi mettete le mani nei capelli e dite come faccio poi l'aiuto di un familiare di qualcuno alla fine la sera siete a casa vostra e ci riflettete e ne siete ampiamente diciamo usciti no? beh qua non è così perché se vi trovate su marte o sulla strada per marte e qualcosa va storto nessuno può venire vi aiutare quindi pensate sempre che nella vita vi può andare anche peggio 77 milioni di chilometri insomma quindi diciamo che poteva andare anche peggio questa sembra un po' la ehm l'osservatorio della stazione spaziale in cui possiamo vedere qua avete hanno indicato dove è casa e così via molto bello molto bello graficamente allora beh di ricorda anche un altro gioco questo non ricordo il nome che sembrava col subnautica nello spazio ecco iniziamo iniziamo male ehi c'è nessuno abbiamo visto una sagoma lì sotto tra l'altro la curiosità accoglie la torcia no aspettate volevo leggere il documento dov'è la torcia no tra l'altro una storia su marte che mi incuriosisce molto la storia fessi attiva che mi incuriosisce molto è il fatto che avevo visto un bellissimo documentario insomma sui bambini indaco i bambini che riescono ad avere delle percezioni insomma e c'era questo bambino che mi aveva incuriosito perché raccontava di come ci fosse vita su marte e di come questi esseri su marte vivessero sottoterra permette a sapere se è vero o meno allora tra l'altro non c'è la traduzione dei foglietti spero che arrivi dopo tanto vabbè qua si riesce a capire ampiamente che la porta verde è quella che si apre la rossa no ecco qua quello che intendo con l'offcraftiano è questo i tentacoli ma che roba eccolo lì voi vi risvegliate su una stazione spaziale insomma fuori uso e vi ritrovate una cosa del genere insomma e non avete nessuno pronto aiutarvi diciamo che questa è una vera situazione per cui mettersi le mani nei cappelli mamma mia mamma mia mi diventa la pelle d'oca ecco la cosa andiamo avanti dai allora di qua sembra che non si possa andare però c'è un cunicolo no è un vetro ho deciso di giocarlo insieme a voi per la prima volta perché alla fine l'andazzo è quello dell'avventura dove si cammina dove si cercano di risolvere gli enigmi ambientali però voglio creare un po' di curiosità in voi ok un piede di porco che ho già una vaga idea di come usare aggiungere l'inventario perfetto vediamo se possiamo prendere anche altro tasto ctrl G si abbassa ma diciamo che il martello sembra non essere l'oggetto di nostro interesse allora adesso voi sapete sempre che ho un senso dell'orientamento veramente scarso però fai leva andiamo ad aprire tira premi si è un monotasto insomma andiamo avanti a livello sonoro è molto ben fatto ma a livello grafico non è male forza soffia sulle candeline mamma mia questa scena invece mi ricorda fallout fallout 4 eccoli cos'è successo? ehi buongiorno gente state tutti bene? per poco non riuscivo il caffè avremmo un brutto risveglio procedura standard non sai cosa fare? siamo noi certo va bene abbiamo avuto un incubo ma questo incubo secondo me non sarà un incubo per molto allora apriamo prendiamo allora decantro ok si ok questo è il nostro page di lavoro Shane Newhart gira ok responsabile rivoluzionario gira davvero aggiunge l'inventario perfetto abbiamo aggiunto il nostro page di lavoro adesso andiamo a vedere il documento scritto a penna leggi ho una convenzione a farti volevo dire ciao no ho già riscritto questa lettera sei volte probabilmente la riscriverò ancora non ho molto tempo prima di potertela effettivamente inviare non ci girerò intorno non sono in antartide quella spedizione non esiste o se esiste io non ne faccio parte sono un po' più lontano sono andato su Marte spero tu possa perdonarmi ti ho raccontato una balla enorme la società prende molto su serio la segretezza delle proprie attività in effetti quando riceverai questa lettera ci saremmo già visti di nuovo dato che non sono autorizzato a inviartela voglio essere io a dirti tutto questo voglio che tu sappia che ti voglio bene quello che voglio dirti davvero quello che voglio davvero dirti eh ok tutto quello che voglio dire va bene lo vuoi bene ok che è praticamente noi stiamo scrivendo una lettera a qualcuno ok chiudiamo il letto un po' stammatizziamo un po' possiamo andarcene la porta è bloccata sì sarà colpa del sì dovrò sbloccarla dal mio terminale va bene andiamo beh perlomeno il terminale non è stile steampunk come era il codice eccolo lì cioè in pratica vabbè è una cosa che proprio non mi non mi risulta cioè nella mia vita allora nella mia vita proprio i codici li conosco ma qua io mi sveglio ho fatto un incubo e non me lo ricordo però diciamo che qui c'è una foto buona fortuna là fuori papà eh no voglio girarlo perché dietro c'è 0509 perfetto giustamente io tengo il codice lì 0509 un po' come il codice del banco ma nel portafoglio giusto allora vediamo un attimo 0 5 0 9 ok login è riuscito sì a parte questa sparafreshata verde allora sblocca porta la porta è sbloccata è diventata anche la luce tutta verde tra l'altro c'erano anche altri documenti da leggere ma non lo farò devo pensare di farlo anche una cosa del genere quando apra la porta di casa diventa la luce verde con le lampadine domotiche devo provarci routine mattutina allora praticamente il gioco ci ha fatto iniziare in modo ultra con un sogno e poi si inizia molto soft e questo inizio un po' soft così mi ricorda sempre Half-Life ricordate che quando si arriva sempre in terreno con Half-Life 1 Half-Life 2 allora Declan è di turno all'antenna Declan praticamente ho trovato in camera una scritta che diceva che stavamo giocando a scacchi e io stavo fosse vincendo mi pare vabbè comunque protocollo di sicurezza allora vediamo un attimo così ci facciamo anche un'idea anche noi allora noi siamo dipendente di Manticore e Oroci sono protocolli di sicurezza va bene non tentare di accedere ad aria o attrezzature per cui necessario un livello di autorizzazione superiore al tuo noi siamo da quanto ho capito il più basso non forzare i colleghi ad atti accesso va bene non concedere i colleghi con livello di autorizzazione inferiore accesso a aria o attrezzature loro vietate segnale immediatamente eventuali irregolarità farla spia insomma data la natura delle attività di Manticore e Oroci questi protocolli hanno lo scopo di proteggerti da incidenti e conseguenze catastrofiche contatta superiore in caso di dubbi va bene va bene ok andiamo ma si può vedere fuori si guardate Marte guardate Marte poi si guiderà anche il il rover qua inizia già ad esserci un po' di un po' di sporco in giro che pare essere terra ci sono picchi di energia quando le batterie si attivano e tu fatti una parola mentre sgavo il posto tuo ok allora vediamo questa è la palestra tra l'altro poi a me la tematica di Marte interessa veramente tantissimo perché mi sto guardando documentare mi sto guardando di tutto forza di verità sicuramente è meno di quella che si sta vedendo qua qua sembriamo veramente c'è la sensazione di essere pesantissimi però non ci mancano le macchine per far colazione con i vari muesli e le varie uova e pancetta porridge salato non c'è qualcosa tipo un caffè porridge salato cosa che non ho mai mangiato in vita mia ma sono barretta praticamente al gusto di ah ok giustamente con quei cosi lì mi viene in mente di fare lo spot cosa fa Indy quando non registra video e mangia quella cosa lì vabbè allora eccola qua questa la torcia andiamo a vedere il biometro me lo indichi dov'è perché io non lo so spingi vabbè facciamo il caffè beh figo però come è fatto non il fatto che comunque tutti questi tasti non sto neanche seguendo la discussione ok è te o caffè 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 c'è scritto coffee bollente 3000 gradi Fahrenheit ho bevuto non lavo neanche la tazza tanto la uso sempre io giustamente no apri l'agenda con tab e infatti il biometro non c'è Josie l'ha visto in laboratorio prima di uscire vai a prenderlo prima di metterti a fare altro va bene ho aggiustato la porta al laboratorio ok dove sarà l'aboratorio tenendo premuto left shift ti muovi in avanti ti muovi in avanti cosa vuol dire allora quindi bisogna andare al laboratorio io qua non è che posso bere il caffè tutto il giorno quindi c'è vabbè da andare a cercare nel laboratorio al fine al fine è un walking simulator qui ci godiamo la storia e laboratorio 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 no forse qui no c'è una mappa o qualcosa tanto non sarà un insediamento enorme perché ovviamente che vuoi aver costruito su marte eh sì il piede di porco che poi la cosa strana è che davvero questa roba è qua come nel sogno e mi vengono i brividi che strano sarà un deja vu eh sì l'ho già notato prima che me lo dicessi che è un deja vu troppa tecnologia sono d'accordo allora abbiamo stabilizzato usiamo la torcia allora dove cavolo avevo abbandonato il mio oh resetta cioè devo cercare anche uno stuzzichino per resettarlo aggiungi l'inventario eh sì vabbè ma dai usa dai mamma mia ragazzi vabbè dai spingi pip perfetto ok ok finalmente abbiamo il sistema il nostro diario scansione per connetterti i servizi ok vai via ok allora left alt cambio visuale biometro ok possiamo vedere non crea tutto schermo scuola sinistra destra su giù seleziona esce ok riavvia assistere in sicurezza scansiona per connetterti a stare in sicurezza inventario vediamo quello che abbiamo vedete che abbiamo preso la torcia abbiamo preso il computerino scansiona 70 battiti minuto ok così stiamo scansionando miglior miglior software di sistema di sicurezza il sistema non funziona correttamente riavviare il sistema si ah la il server ok ok abbiamo riavviato il sistema di sicurezza attenzione desincronizzazione pannelli solari rilevata ok bisogna andare a sistemare all'elio parco bisogna andare a sistemare i pannelli solari ok non è la prima volta che succede giustamente secondo me qua qualcosa poi succede e si distrugge tutto va beh andiamo ah qua è un green screen per registrare vediamo un po' che cosa curiosità che cosa stanno registrando vediamo se c'è qualcosa ah è qua una citazione Capricorn One credo saluti dal polo sud ok non vi spoilerò nulla perché se il gioco poi vi interessa volete prendere ve lo guardate ve lo leggete qua probabilmente hanno mentito di non essere subate ma di essere al polo sud e lì stanno registrando i video di saluti dal polo sud insomma va bene allora scansiona dove dobbiamo andare? dobbiamo andare a sistemare i pannelli solari all'elio parco dove cacchio è l'elio parco? abbiamo un inventario ahia l'elio parco si dai spero di trovarlo presto perché dobbiamo anche pilotare il mezzo adesso quindi capire dov'è credo di qua perché di qua poi si esce la risoluzione di Marte si poi da quanto pare abbiamo anche il il casco presumo beh graficamente è meraviglioso eh cioè Dio non è una roba fotorealistica però mi piace gli effetti di luce sono non sono male per esempio è una questione di gusti quanto riguarda la grafica però allora il gioco ci ha fatto un save quindi dovremmo essere sulla strada giusta allora ecco qua ok questo è il famigerato airlock cambiare l'atmosfera prima di procedere indossa un casco eh no non lo abbiamo allora il casco mi sembrava ok casco ebbè il casco l'abbiamo messo cambiamo l'aria ricarica l'aria con la macchina dell'aria ah dobbiamo ricaricare ok qua infatti ok bellissimo l'interno del casco con i livelli di ossigeno la torcia il biometro vediamo eh sì sulla tuta sì figo adesso attiviamo l'airlock airlock che io i gameplay channel abbiamo costruito con in successo su the station ok we are on mars salto dalla scaletta non si può saltare se non c'è il salto va bene figo figo per la prima volta cammino su marte fantastica desolazione dovremmo prendere il mezzo adesso credo ecco queste cose mi fanno impazzire cioè non ci sono banane dovrò chiudere presumo sì questa è una cura proprio di dettagli il fatto di comunque non cliccare transizione boom sei sul mezzo queste cose qui mi fanno veramente impazzire allora abbiamo consumato il 5% dell'aria lo carichiamo di nuovo ok molto bene entriamo perché è una sorta di airlock di là cioè siamo entrati così cioè probabilmente qua dentro no dovrebbe essere vabbè entra dai andiamo pilotiamo questo mezzo mezzo che tra l'altro non mi è nuovo l'ho visto anche il lost in space bellissima serie su su netflix allora motore idraulica motore pilota no scusi eh perdoni ok no ho lasciato la centrale sono ok sta guidando adesso ho attivato il motore ok bella la base è in stile con quello che è l'ambiente di Marte vedete tutta coperta di polvere è un gran problema anche Surviving Mars ci insegna che i pannelli solari hanno problemi con le tempeste di sabbia perché poi si coprono e non forniscono più energia ok intanto vi lascio leggere anche la conversazione sotto figo 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 niente arriviamo ai pannelli solari si presume perché la manutenzione è tutto ok ok arriviamo un attimo kilowatt 8 8 e 6 ok si oddio siamo andati lontanissimi il potere del sole nuovo capitolo ripristina la corrente nella base ok che poi è anche un obiettivo il gioco salva manualmente cioè automaticamente quando arriviamo nelle zone infatti probabilmente salverà adesso ovviamente rimetto nelle vostre mani la possibilità di continuarlo con un altro episodio un secondo episodio moons of madness dovete farmi sapere infatti questo è un checkpoint non scenderò dal rover perché mi farete sapere voi se volete il proseguo di questa avventura che ovviamente per alcuni può essere entusiasmato per altri è noiosa vediamo un attimino che cosa mi dite voi vi ringrazio vi saluto e vi prego sempre di lasciare qua sotto nei commenti la vostra preferenza o comunque anche solo un commento su cosa ne pensate di questo gioco che ricordiamo abbiamo avuto la fortuna di avere in italiano alla prossima ragazzi e ciao 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 ciao